Con l'allenatore di questa Sanitas Metal League Mazzano pronta alla prima partita ufficiale di domenica, come sta la squadra? La squadra è ancora un po' imballata, un po' stanca perché comunque la nostra priorità non era quella di arrivare sicuramente pronti e in forma per la partita di domenica ma per avere benzina, per tirare avanti tutta la stagione. Sicuramente però siamo molto vogliosi e molto eccitati di scendere in campo domenica per la prima partita ufficiale. Una squadra che è un mix di vecchie e di nuove, costruito attorno comunque al capitano, Natalia Serena, a questi due nuovi grandi arrivi, le due stranieri. Insomma ci sono dei punti nei quali partire interessanti? Sicuramente, diciamo che nei tre ruoli principali, che quindi sono i due schiacciatori e l'opposto, abbiamo tre sicurezze, tre giocatrici esperte, tre giocatrici che la due l'hanno già fatta più e più volte e intorno abbiamo una serie di ragazze più o meno giovani alla prima esperienza di Serie A che metteranno sicuramente tantissimo entusiasmo per affrontare al meglio questa avventura. Elena Coleva, uno dei volti nuovi di questa Sanitars Metal League, sulle cui spalle gravano tante responsabilità perché tu sei l'opposto, sei la giocatrice di esperienza, sei pronta? Certo, sono pronta e sono pronta di prendere questa responsabilità, aspetto le prime partite di Coppa e di campionato, aspetto risposta di tutta la squadra, proprio di andare a giocare belle cariche, quello che esce, esce quello che non esce dopo di sicuro e andiamo a vincere, poi vediamo. Com'è questa squadra? Come te la senti? Come sei stata accolta? Come è il gruppo? Questa squadra mi sorpresa in senso buono perché tutte le ragazze sono proprio disponibili, brave, ce le mettono tutte in allenamento, ce le mettono tutte anche di accogliere le nuove arrivi, comunque è una squadra secondo me che potrebbe ottenere grandi soddisfazioni con il cuore. Sara Alberti, il volto bresciano di questa Sanitas Metalleghi, ritorno nella tua provincia dopo essere cresciuta in ambiente Coppa e Dretti, un anno importante per te, una scommessa, sei giovane, però è la prima vera e propria scommessa. Sì, è una scommessa per me, spero di riuscire a sostenerla, anzi sono sicura che riuscirò, voglio crescere sia in campo che come persona, ci sono ragazze che stanno aiutando tutti noi più giovani a fare questo e quindi spero che per tutto l'anno possa essere così. Tuo ruolo particolare al centro, descriviti un po' tecnicamente, più forte in attacco, più forte a muro, dove devi migliorare? Io sono un centrale che ama attaccare, infatti negli anni scorsi rimpiangevo il non attaccare, mi piace chiuderla nei tre metri, voglio però ritornare, voglio essere anche un punto di riferimento a muro, e so che ho le caratteristiche da una buona muratrice e quindi voglio dare il meglio di me.